Grazie, grazie a Viceruzzi e grazie a Giulio Buongiorno, grazie per essere qui. Noi ci vediamo con il film in Italy Best Movie Humanitarian Award per tutto quello che fanno dal 2007 e soprattutto per la vittoria per il Codice Rosso. Sì, per spiegare molto brevemente quella clip che cos'è Codice Rosso. Da tantissimi anni con doppia difesa assistiamo a un fatto gravissimo, cioè che le donne finalmente denunziano la violenza, ma siccome ci sono troppe denunzie, molto spesso i magistrati, i poliziotti non riescono a ascoltare le donne e quindi a rendersi conto se c'è un vero pericolo. Questo fa sì che le donne denunziano e però nonostante ciò vengono massacrate in attesa di giudizio. Abbiamo portato avanti come doppia difesa senza colore politico un'idea. Obblighiamo i magistrati e la polizia ad ascoltare le donne che denunziano. Bene, quella che era un'idea di una fondazione piano piano si è trasformata in legge e oggi c'è la possibilità per le donne che sono in pericolo di vita di avere un aiuto immediato. Grazie, vogliamo anche dedicare questo premio a una mamma speciale che ci ha dato il coraggio di combattere questa battaglia. Si chiama Inmarizzo, lei si era rivolta alla fondazione una mamma incredibile con un'energia pazzesca per ottenere giustizia. Aveva denunciato tante volte, era preoccupata per la sua bambina, Noemi Durini, che è stata uccisa e seppellita viva dal fidanzato perché le dicevano più volte che non doveva preoccuparsi, era una cosa da ragazzi. E da lì abbiamo deciso che non si poteva più andare avanti così e lei ci ha dato la forza per combattere questa battaglia. Quindi grazie di cuore e la dedichiamo a Inmarizzo. Grazie mille.